Un gruppo di oltre 500 medici, infermieri e operatori sociosanitari abruzzesi in pensione si rende disponibile a scendere in campo nella battaglia contro il Covid-19 nelle strutture ospedaliere di Abruzzo e Molise, fornendo il proprio contributo a carattere puramente volontario. A renderlo noto sono il professor Raffaele Tenaglia, ex primario di urologia all'ospedale di Pescara, e il dottor Walter Palumbo, in una lettera indirizzata al presidente della Giunta regionale Marsilio. Abbiamo deciso di chiamarci i riservisti, spiega il gruppo di operatori sanitari, perché nel passato, in periodo di guerra, e questa lotta contro il coronavirus è una guerra, il Paese, per aumentare la sua forza combattiva, richiamava in servizio coloro i quali avevano lasciato il servizio militare attivo. Il gruppo, formato per lo più da pensionati abituati a vivere in ospedale, in sala operatoria e in rianimazione, ha deciso di organizzare una task force volta a condividere un percorso comune per dare una mano a coloro che in questo momento di emergenza sanitaria sono in prima linea negli ospedali della Regione. In particolare, il personale sanitario in pensione intende fornire il proprio contributo selezionando e assistendo i nuovi operatori, in modo da formare sostituti per i rianimatori. I medici in pensione evidenziano al governatore la necessità di aprire nuovi spazi, in particolare un reparto con almeno 50 posti di intensiva, subintensiva e medicina generale, e chiedono a Marsiglio di utilizzare le competenze messe a disposizione e trovare presso soluzioni logistiche per l'aumento dei posti letto, specialmente per la terapia intensiva. L'unica condizione posta dal gruppo di operatori sanitari è legata alla dotazione dei necessari dispositivi di protezione.